a tutti sono una sveglia la mattina e ci alziamo e abbiamo delle motivazioni per alzarci insomma elenchiamocela in testa queste motivazioni che abbiamo di certo non è l'assoluto amore per la vita ma abbiamo degli impegni dei calendari bene ora invece immagina che tutti questi impegni smettono nella tua testa di avere valore e lasci suonare la sveglia la lasci suonare decidi di mandare all'aria tutta la tua giornata e così anche tutte le giornate a seguire perché questo è il pretesto da cui parte george perec scrivendo il suo terzo libro un uomo che dorme libro di cui nel 74 bernard quissan decide di fare un film con perec stesso alla sceneggiatura è una storia che può essere letta e visualizzata allo stesso tempo trovate facilmente entrambi i contenuti ad oggi il processo di immedesimazione nel cinema è comunissimo questo avveniva anche all'interno dei libri all'interno delle grandi storie avviene tuttora però in minoranza e in questo libro invece è impossibile che non avvenga perché si rivolge a un tu si rivolge a un lettore è un libro persuasivo e io ne sono uscito completamente pazzo è la trama è semplice è uno studente che lascia andare la sveglia e decide di iniziare a intraprendere una vita basata sull'indifferenza l'indifferenza verso gli impegni verso il prossimo verso gli affetti un'indifferenza totale così il protagonista di questo libro vive una costante attesa senza sapere però che cosa sta realmente aspettando e leggo un passaggio per farvi capire che cosa intendo poi in un giorno del genere un po più tardi o un po più presto scopri senza sorpresa che c'è qualcosa che non va che per dirla senza tanti giri di parole tu non sai vivere e mai ne sarai capace perec si rivolge al lettore e dà al lettore un'identità che non gli appartiene perché io non sono uno studente parigino che ha saltato un esame pure dentro di me c'è una parte di me che mi dice molla tutto chi se ne frega dei tuoi impegni prima volta che lessi questo libro mi annotai nella prima pagina e fa molto ridere tenta di persuadermi perché è a tutti gli effetti una storia persuasiva persuasiva non ti senti più sorretto qualcosa che ti sembrava e ti sembra ti avesse finora confortato scaldato il cuore restituito il sentimento della tua esistenza quasi della tua stessa importanza dandoti l'impressione di aderire al mondo e di esservi come immerso ecco comincia ora questo a venir meno